I tamponi eseguiti ammontano a 6039. I nuovi casi positivi in Sicilia al coronavirus nelle utile 24 ore sono 89, numeri contenuti nel quotidiano bollettino diffuso al Ministero della Salute. Sale così a 2412 il numero degli attuali positivi. 246 si trovano ricoverati in ospedale e in questo numero sono compresi 16 pazienti che si trovano nei reparti di terapia intensiva. L'isolamento domiciliare invece riguarda 2166 persone. Ci sono anche tre vittime che portano il numero complessivo dei deceduti nella nostra regione a 303. Degli 89 casi nuovi registrati in Sicilia, 42 sono nel Palermitano, 16 in provincia di Catani e 15 in quella di Trapani. A livello nazionale c'è un incremento dei contagiati ma bisogna considerare che è stato anche il giorno del record di tamponi. Nelle ultime 24 ore 1649 casi in tutta Italia con 103.000 tamponi, il numero più alto di test dall'inizio dell'emergenza.